Roma ha 1.650.000 abitanti, cioè sostanzialmente una curva piatta. Guardate, non è vero che i fabbisogni e i dirizi sono finiti, non è così, perché il numero di componenti medio delle famiglie diminuisce sempre. Qualche migliaia di famiglie aumenta, però siamo là, sono una curva piatta. Noi stiamo, perché la Roma sta costruendo il terzo ipermercato del legno dell'Ikea, terzo, non c'è una città d'Europa che ha tre mercati di legno e ci sono uno. Cioè, noi siamo una, appunto, con tutta l'area europeana siamo 4 milioni di persone. Com'è possibile che a Londra, che c'ha 16 milioni di persone, c'è un'Ikea e noi ce ne abbiamo tre? Com'è possibile che a Parigi ce n'è una, 12 milioni e noi ne abbiamo tre? Perché c'è stata, c'è stata probabilmente un'aberrazione culturale che è stata tenuta, appunto, col copertio calato di cui, privato è vero, piantato con le regole, e finisce qua.